A voi tutti ben ritrovati cari amici di Meteo Giuliaci un saluto Giuseppe De Vettis si è concluso il periodo di Natale delle festività natalizie nel segno dello scirocco nel segno del rialzo delle temperature si concluderà anche questo fine settimana nel segno delle temperature miti molto miti al sud e non solo ma avremo molte nuvole molte nuvole un po' dappertutto dalle Alpi guardate alla Sicilia molte nuvole e nuvolosità davvero compatta al centro e al nord tra la Toscana poi la Liguria tutto il nord Italia con dei piovaschi nella seconda parte del giorno anche verso il Friuli Venezia Giulia ma le precipitazioni maggiori si avranno soprattutto sul Piemonte quindi pioggia in pianura neve invece sull'arco alpino oltre 1100 1300 metri soprattutto sulle Alpi occidentali naturalmente lì avremo le precipitazioni maggiori attenzione perché le nevicate potranno risultare anche abbondanti io per ora ho concluso cari amici buona domenica da parte mia arrivederci grazie a tutti